del corso intermedio. La settimana prossima cominceremo con il corso avanzato. Oggi parleremo dei gruppi di interni e dei relativi diritti. Sgombro subito un potenziale equivoco. Non sto parlando dei gruppi, quelli che noi chiamiamo internamente i gruppi di suoneria. I gruppi di suoneria sono, non so, segreteria piuttosto che supporto tecnico e non fa altro che, io chiamo un interno solo, ma in realtà suonano n interi. Questo è un gruppo di suoneria di cui parleremo nel corso avanzato. Un destinatario unico che in realtà fa da ripetitore per un insieme di interni del mio centralino, come destinatari di chiamate. No, non è questo di cui parliamo oggi. Per gruppi di interni noi intendiamo un insieme di interni che per ragioni le più disparate hanno una serie di, hanno la possibilità di interagire fra loro e di vedere reciprocamente lo stato di presence e le relative chiamate. Faccio un esempio. Studio associato bianchi, rossi, verdi. Tre avvocati. Tre avvocati associati si occupano di aree più o meno diverse del diritto e quindi hanno fatto un bello studio associato in cui riescono a coprire una buona fetta del diritto italiano con le rispettive specializzazioni ma anche con ognuno con i propri clienti. È un bello studio, c'è una bella segreteria di front end con una serie di impiegate che fanno da receptionist e da impiegate amministrative e alle spalle della reception ci sono gli uffici nel quale lo staff dell'avvocato Rossi con i suoi avvocati junior, i suoi praticanti, i suoi impiegati, eccetera. L'avvocato Rossi ha lo stesso, l'avvocato Verdi ha un bello studio con alcune decine di persone che ci lavorano dentro. Bene. Io, avvocato Rossi, magari non ho piacere che il giovane neoassunto nello staff dell'avvocato Verdi sappia con chi sono al telefono e se invece, a proposito di quello che diceva prima il vostro collega, va sulla schermata del client e ha visibilità delle mie chiamate potrebbe sapere con chi sono al telefono. Ok? Se fossimo tutti dello stesso gruppo. O viceversa, non vorrei mai che il giovane neoassunto dell'avvocato Bianchi, sentendo suonare libero il telefono del mio collaboratore che in quel momento magari si è alzato dalla scrivania ed è andato in bagno, possa, vedendo con chi sta il chiamato, intercettargli la chiamata e dire, sì pronto, ah no cercava Marcello, in questo momento è fuori scrivania, ma io sono Mario, sono altrettanto bravo, posso dare io qualche consiglio? Ecco, magari questo non vuole. Allora che cosa si fa? Si crea all'interno del mio bel centralino studio Bianchi, Rossi, Verdi, il gruppo staff Bianchi, staff Rossi, staff Verdi, in cui possono sempre chiamarsi fra di loro, cioè quindi io se ho bisogno di un consiglio di Rossi prendo su, faccio nella mia rubrica, chiamo Rossi e mi richiama e mi risponde lui, ma non ho la visibilità di quello che lui sta facendo e con chi e viceversa. Quindi siamo interni, ci chiamiamo, ma io non vedo la sua lista, non vedo il suo stato di prezzo se non vedo la sua lista delle chiamate di lui e degli altri suoi collaboratori, ok? Ma se invece la reception deve essere in grado di smistare le chiamate su tutte, beh non c'è problema perché la receptionist farà che non vedo io come potenziale rischio alla mia privacy e alla mia concorrente, al mio staff di avvocati, è membro di tutti e tre i gruppi Bianchi, Rossi e Verdi, in modo tale che lei potrà sapere in qualunque momento se Bianchi ha il telefono, se Rossi è libero, se Verdi è in non disturbare. Avete capito? Quindi questo è il gruppo di interni, non è il gruppo di suoneria, che invece è segretarie e io faccio un numero, piuttosto che supporto tecnico, faccio un numero e suonano due o tre telefoni in un colpo solo. Avete capito la differenza? Quindi che cosa deve fare? Tutti i centralini partono con un unico gruppo default, io lo posso rinominare e posso ricambiare o creare n altri gruppi dando loro diversi nuovi, quindi io parto con default e poi default lo chiamo Bianchi e dopodiché creo il gruppo Rossi e poi creo il gruppo Verdi. Dopodiché mano a mano che aggiungo i miei interni li faccio membri del gruppo o Bianchi o Rossi o Verdi o anche di tutti e tre, se io voglio trasversalmente che la persona sia visibile, vista e vedente nei tre gruppi. Ok? In questo modo riuscirete a gestire la possibilità anche per un discorso anche di ordine, in una piccola realtà ci si vede tutti, ma in aziende strutturate con decine barra centinaia di interni, io avrò una lista di colleghi di cui voglio guardare lo stato di presence che potrebbe risultare sconfinata, esagerata. Ha senso che io sappia lo stato di disponibilità del collega tal dei tali che lavora nella divisione tal dei tali, sempre della mia stessa azienda, ma col quale io non l'ho neanche mai salutato in mensa? Probabilmente è opportuno che io abbia visibilità di quei gruppi di interni con i quali la mia operatività quotidiana si interfaccia di più. Se poi dovessi per caso quella volta aver bisogno di quella persona, cercherò nella rubrica aziendale e trovo, se non è nascosto perché io posso anche nasconderlo, e troverò la persona da chiamare facilmente, faccio una ricerca, io ho bisogno di, so che dunque devi chiamare Rossi della divisione Pinco Pallino, io apro il web client e comincio a scrivere Rossi ed ecco che mi vengono fuori tutti i rossi dell'azienda, anche non dei miei gruppi, e ci clicco sopra e lo chiamo. Ma quando apro il mio web client non vedo la faccia di Rossi con il suo stato di presence, perché non mi interessa, vedrò quella dei miei colleghi, con il quale invece chatto, chiamo, clicco e interagisco di più. Per bloccare le chiamate, quindi bloccare le chiamate fra interni, allora si può fare in modo che un interno non riceva o non accetti chiamate da altri interni, bloccare le chiamate fra gruppi, no, nel senso che se io faccio, io posso magari non sapere che, cioè si vuole evitare che un interno chiami un altro collega, ok? Si può fare singolarmente sui singoli interni bloccando con le eccezioni le chiamate provenienti dai caller ID, quindi non posso bloccare la chiamata in uscita, posso bloccarla chiamata in ingresso, ma lo posso fare utente per utente, non a blocchi di gruppi, purtroppo. Non mi è mai stata fatta questa richiesta, di solito fra gli interni ci si chiama, piuttosto magari ci deve essere un interno che non si vuole rendere visibile, cosa che si può tranquillamente fare, facciamo un esempio, il telefono sulla scrivania del presidente del consiglio di amministrazione ha un suo interno che non compare nella rubrica aziendale, al contrario il suo nome è associato a quello che è la sua segretaria di direzione e quando uno chiama lì, a segreteria presidenza del consiglio di amministrazione, quando uno chiama risponde alla segretaria e se un attimo le passo il presidente glielo inoltre, ma invece l'interno diretto lo sanno solo il direttore generale, la moglie o l'amante, ok? Avviso che le regole in uscita valgono per le chiamate esterne, quindi non dovrebbero essere prese in carico nel caso di chiamate fra interni, quindi non so come abbia detto il vostro collega che con regole di uscita legate a gruppi, comunque andiamo avanti, ok? ogni gruppo che io vado a nominare ha due preset, un preset livello definito manager e un preset livello definito utente, questi preset il sistema mi propone già precompilati ma li posso aggiustare, dopodiché ogni volta che aggiungo un membro posso assegnargli il ruolo di manager o di utente e se io volessi qualcosa nel mezzo, allora se è qualcosa nel mezzo specifico per un utente posso andare a modificare nello specifico quell'utente e in generale il centralino a livello di fine tuning riesco a sovrascrivere le impostazioni generali. Quali sono i rubriche, i diritti che io vado a gestire attraverso questi flag? Bene, la gestione della rubrica, io posso abilitare un interno a gestire l'intera rubrica aziendale, vuol dire che lui da client o da web client potrà aggiungere contatti in rubrica che nell'arco delle 24 ore successive verranno visti su tutte le rubriche aziendali degli apparati approvvigionati sul mio centralino. La possibilità di intervenire su chiamate in gestione sull'Ivr, la possibilità di vedere interni e chiamate degli altri miei membri del gruppo, questo di solito è attivo. Sulla base del fatto che io veda lo stato degli altri interni membri del mio gruppo e le loro relative chiamate posso fare certe cose su queste chiamate, posso parcheggiare, posso fare chiamate tra virgolette come interfono, posso trasferire, intercettare, praticamente gestire tramite o pulsante o il destro del mouse e opportuni comandi o tramite anche codici da tastiera la chiamata rivolta inizialmente verso il mio collega. Il caso che vi dicevo prima, se il giovane neossunto dello staff bianchi non è in gruppo con lo staff verdi e lui sente suonare il telefono nell'ufficio verdi e lui non è membro di questo gruppo, lui non vedrà la chiamata e non potrà fare, posso fare in modo che non possa fare il pick up, c'è un'impostazione che quindi può limitare il prelievo o no ai membri del proprio gruppo. Ci sono alcune funzionalità specificatamente rivolte al mondo alberghiero, le cosiddette funzionalità receptionist che consentono di impostare una sveglia, come abbiamo chiamato un reminder, fare lo status di check in check out di una stanza, quindi pulire o no un interno che da questo momento l'interno 210 mi diventa Marcello Levi e vado via dall'albergo, faccio check out, il 210 resta a vuoto, arriva Mario Rossi e viene assegnato a un nuovo cliente Mario Rossi. Funzionalità tipiche del mondo call center, le ultime, il bargin, listen e whisper. cosa sono queste funzionalità? Il bargin è ascolta come terza voce, chiedo scusa, il bargin è intervieni come terza voce, listen è ascolta come terzo orecchio, il whisper è ascolta e parla ma sentito da solo uno dei due interlocutori. Chi magari ha capelli un po' bianchi come me si ricorderà i buon compagni con Ambra, che parlava nell'auricolare, lei parlava, questo nel call center spesso avviene quando c'è il giovane ne ho assunto che ha spesso un suo tutor e quando lui è in difficoltà magari fa un segnale, il tutor comincia a dargli, dirgli che deve rivolgersi al tal canale, deve fare questa procedura eccetera, se poi la cosa trascende oppure ci sono clienti che hanno, mettono in difficoltà la gente, a questo punto uno può addirittura fare il bargin e intervenire, sono Marcello Levi responsabile del supporto, mi segnala la collega che c'è un problema, posso essere, aiutarla, si calmi, mi spieghi qual è il problema. Queste sono funzionalità tipiche del mondo call center che sono però esclusiva delle licenze pro. Dicevamo, se ho bisogno poi di avere degli utenti che siano a cavallo fra il ruolo di quello che è attivo nel setting manager e quello che è attivo nel setting utente, io faccio la mia assegnazione assegnandogli il preset, poi se vado su quell'interno vedrò lì nel suo tab diritti la replica di quello che è stato impostato per il gruppo e posso andare a modificare, aggiungendo e togliendo cose che invece di là erano proibite e quelle che vengono impostate a livello di diritti dell'interno sovrascrivono i diritti del gruppo. Dicevamo, io posso rendere trasparenti e visibili i gruppi di uno rispetto all'altro? Sì, lo posso fare, posso quindi andare a pubblicare l'informazione a livello di presence dei gruppi che mi interessano, quindi in questo modo sarà più semplice per me di trovarli che vedere il loro stato di disponibilità ed eventualmente contattarli con un click, chiamarli, chattare, eccetera, ma non garantisce la visibilità delle chiamate e gli interventi delle chiamate, perché io posso avere la garantizia di questo, devo essere a mia volta membro di quel gruppo. Ok, quindi facciamo un esempio, staff rossi e staff bianchi, io voglio che i loro, i rapporti fra gli avvocati sono ottimi, quindi io voglio sapere, sempre voglio sapere se il giovane per chiedere consiglio, eccetera, quindi voglio vedere nella mia schermata la disponibilità o meno dei membri dello staff di bianchi, lo voglio pubblico in entrambi i gruppi, ma in ogni caso non rendo disponibili le informazioni delle chiamate dello staff di uno allo staff dell'altro, voglio avere che tutti vedano tutto, allora li metto tutti in un unico gruppo, ok? Alcuni esempi, io qua vi invito a fare qualche prova perché veramente sono più, questi sono giochini molto semplici, se A vede B e B e C si vedono, no, sì, provateli, queste slide credo siano già pubbliche, quindi andate a vedere, non ho mai richieste di assistenza su questo, ho visto che qui tra l'altro c'è una slide di troppo, quindi la slide 10 è da eliminare, è la copia in non tradotta della slide 11, eccetera, eccetera, sono cose molto semplici, qui vedete un esempio della configurazione sul web client, qui nel mio web client vedo una serie di colleghi nel loro stato di disponibilità e se vado nel passo nella schermata chiamate vedo che c'è un chiamante che sta chiamando un mio collega e cliccando sulla linea chiamata in ingresso col pulsante destro posso fare una serie di cose, perché? Perché siamo membri dello stesso gruppo e io ho i diritti, o ho un ruolo di manager, oppure individualmente mi sono stati, comunque nel mio profilo sono stati assegnati i diritti di intervenire sulle sue chiamate, quindi ho sia la visibilità delle chiamate che la possibilità di intervenire, vedete posso trasferire, posso parcheggiarla, posso chiuderla, posso registrare, avete capito? cliccando col pulsante destro sulla chiamata. Una domanda, è possibile impostare dei tenant differenti tra gruppi? Non so cosa si intenda per tenant, di conseguenza non so dare una risposta. In generale i gruppi di interni, stiamo parlando di un unico centralino, quindi impianto, marcello.3cx.it eccetera eccetera. Avranno dei nomi i gruppi evidentemente, tale per cui poi in rubrica io li vedo con un'etichetta, quindi gruppo sales, gruppo amministrazione, gruppo magazzino eccetera e se non li voglio vedere tutti in un corpo solo, li seleziono volta per volta, una alla volta nella mia schermata e vedo quello che voglio. Ripeto che non so cosa significhi in questo senso tenant? Comunque no, non ci sono tabelle settimanali sui gruppi, i gruppi sono degli interni al quale vengono assegnati all'interno 1 o all'interno 2, non continuano ad aver inteso la domanda, ma sicuramente non ci sono tabelle settimanali di appartenenza ai gruppi, l'unica cosa che è basata su tabella settimanale è l'orario del centralino di cui parliamo più tardi, oggi stesso. Infine un'altra cosa molto importante, nel profilo degli interni è anche possibile arrivare a promuovere un interno a una gestione parziale fino al totale del centralino, a cominciare dal proprio stesso interno. Non è che è un caso classico, nei call center per esempio, forse voi sapete che i call center sono normalmente oggi delle compagnie terze che offrono i loro servizi all'azienda che richiede campagne di marketing, campagne di supporto, campagne promozionali, eccetera, eccetera, e affitta la tala struttura per sei in tre mesi, sei mesi, nove mesi, quello che deve essere. Spesso la stessa azienda offre servizi in parallelo fra diversi clienti e comunque essendo la nuova frontiera del proletariato, i call center hanno un turnover negli operatori molto frequente. Questo può significare che è un onere per l'amministratore del centralino continuamente andare ad aggiornare il gruppo, gruppo campagna azienda 1 con Silicenza Giovanni arriva Mario, gruppo campagna azienda 2, Silicenza Maria arriva Francesco, ecco che il manager è un onere per l'amministratore del sistema. Se deve gestire tutte queste cose sempre l'amministratore del sistema in un call center un po' grande con magari qualche centinaia di operatori è un continuo. Allora io posso arrivare a delegare il gruppo campagna azienda 1, saranno degli interni, di cui io posso andare a delegare un membro, che tipicamente sarà il manager, alla gestione degli interni del gruppo. Quindi all'interno 210 c'era Mario e si licenzia e arriva Francesco, ecco che il manager accede alla console di gestione, gestione degli interni, 210 cancella Mario e ci mette Francesco, ok? Senza dover coinvolgere l'amministratore del sistema. C'è una gerarchia di funzionalità che possono essere arrivati ad abilitare a ogni interno, fino ad arrivare ad avere proprio una sorta di vice amministratore, che però ha la limitazione di non avere accesso ai parametri, quindi non potrà ad esempio cambiare le porte SIP, non potrà cambiare una serie di altre cose che potrebbero avere impatti proprio sul database del centralismo. Ok? Quindi lo trovate nella gestione dell'interno, la possibilità di delegare e in questo caso come farà l'interno? andrà sulla pagina di accesso alla console di amministrazione, farà login con le proprie credenziali dell'interno, che ha ricevuto e lui sa aver avuto nella sua mail di benvenuto e facendo così avrà accesso a un'interfaccia della console di gestione che è via via più o meno bloccata e oscurata. Vedrà come editabili solo le cose che via via, a seconda di quelle che sono state le voci abilitate, potrà gestire lui stesso. Nel caso di una piccola azienda, siamo tutti colleghi, siamo tutti abbastanza in gamba e ognuno vuole essere in grado di configurarsi il proprio interno come vuole, io farò che direttamente ognuno è in grado di gestire il proprio interno. Io faccio l'amministratore del centralino per i miei dieci colleghi, ma ognuno se vuole configurarsi lui stesso, le BLF del suo telefono, le sue regole di inoltre, impostare i numeri inoltre del suo cellulare, eccetera, ognuno se lo fa, per esempio. Ok? Viceversa, nulla di tutto questo, io, unico capo del mondo, gestisco tutto centralmente. Vedete? Libera possibilità di scelta. Ok? Benissimo. Passiamo al secondo argomento di oggi, molto importante, perché anche solo oggi, ad esempio, ho avuto due ticket riguardanti queste richieste di assistenza su questo argomento. Le regole di inoltre. Allora, cominciamo a parlare dei profili di presence. Cosa sono i profili di presence? Ne abbiamo parlato più volte fino ad oggi nei moduli scorsi. Parlavamo del profilo di presence, o anche detto di presenza, o di disponibilità dei miei interni. Cioè rappresenta, ed è uno della base, è uno dei pilastri che portano un centralino come 3CX a essere una vera e propria piattaforma di unified communication, rappresenta in modo graficamente intuitivo, in modo immediatamente percepibile, lo stato di disponibilità di un particolare interno, nel senso di la sua ricettività o meno, a ricevere chiamate, e consente all'amministratore o all'interno stesso di gestire in modo opportuno le chiamate in ingresso a seconda della sua disponibilità. Quindi, ovviamente, se io sono seduto nella mia scrivania, sto facendo le mie cose, ma ho il telefono acceso qui a fianco, sono verde e sono pronto a rispondere alle richiamate. Se sono andato in pausa a caffè, posso segnalare ed evitare che uno mi chiami e sia in pausa a caffè. Se sono andato in ferie, non voglio essere disturbato per le prossime due settimane, potrò dare un altro tipo di messaggio e un altro tipo di informazione, già grafica ai miei colleghi. Quali sono questi stati di disponibilità che 3CX mette a disposizione dei suoi utenti? Sono cinque. I tre più comunemente usati sono disponibile, uscito e do not disturb, oppure available, away e do not disturb, e sono verde, giallo e rosso, al quale vengono associati altri due stati, che sono la replica di disponibile e la replica di do not disturb. C'entrini italiani le trovate come, se non sbaglio, pranzo e... Adesso lo dico, perché hanno dei nomi personalizzabili. Chiuse vacanze, sto andando a guardare. In italiano, scusate, ce l'avevo in inglese. Ve lo dico. Launch e business trip, anche in italiano. Rinominare gli stati di disponibilità e fuori ufficio 2. Launch e business trip. Ok. Con l'ultimo service path. Forse precedentemente avevano un altro nome. In ogni caso, le posso personalizzare in impostazioni PBX, rinominare gli stati disponibili 2 e fuori ufficio 2. Ok? E che sono quindi la replica di disponibile e di fuori ufficio. Bene. Cosa fanno? Innanzitutto, come posso... Per spostarmi da uno stato all'altro, ho un'infinità di possibilità. A cominciare dal client, cliccando sull'icconcina colorata, scelgo il nuovo colore e mi sposto da verde a giallo a rosso. Da web client, anche lì, clicco sopra le stesse stato e abilito il mio stato di disponibilità. Ma se sono receptionist, lo posso fare anche per altri interni. Io interno posso modificare lo status. Per esempio, la tal camera chiama e dica se non vorrei essere disturbato fino alle 8 di mattina. E tac. Posso andare a mettere il do not disturb. Chiunque lo può fare, se conosce l'esistenza, attraverso degli appositi dial code, di default è asterisco 3, seguito da il numero da 0 a 4. Quindi 30, 31, 32, 33, 34, 5 numeri e la cui pressione corrisponde al relativo stato. Quindi asterisco 30, disponibile 31, uscito seguendo quest'ordine. Quindi qui sarà 30, 31, 32, anzi chiedo scusa. 30, 31, 32, 33, 34. Non è questo l'ordine. È disponibile, uscito, do not disturb, custom 1, custom 2. Ok, questa è la sequenza. Asterisco 32, do not disturb. Ok. Dicevamo, non so, grazie, commutazione automatica. Anche questo me lo segno. Grazie. Allora sono due cose che mi dovevo segnare. commutazione automatica, ok? Ne parliamo meglio nel prossimo modulo. Quindi ci può fare, posso, cioè sui telefoni che ne sono dotati, hanno una pulsante dnd che corrisponde alla pressione dell'asterisco 32, e do not disturb, quindi fare asterisco 32 e premere dnd è la stessa cosa. Storicamente non era così, storicamente sui vecchi telefoni era qualcosa che impostava, che modificava il comportamento del telefono stesso, ma i telefoni supportati con il firmware richiesto hanno questo allineamento e quindi non si creano più incongruenze fra lo stato dell'interno e quello che lui decide e quello che è lo stato sul centralino, del telefono e dell'interno sul centralino. Può essere automatizzato in modo tale che quando io inizio il mio orario d'ufficio vado automaticamente in disponibile, quando esco vado in orario di pausa, vado in uscito e quando finisce l'orario di lavoro vado in duraddistur. Può essere gestito dall'amministratore e dalla console di gestione, può essere associato a cambi di profilo su pulsanti BLF o anche dal menu di voicemail. Ne avevamo parlato al corso base quando si parlava della voicemail, se qualcuno di voi si ricorda. Ma cosa posso fare in ciascuno di questi miei stati? Allora abbiamo detto che due sono stati di disponibilità e tre di indisponibilità. I due stati di disponibilità significa che io posso ricevere le chiamate e il primo valore che vado a impostare è per quanto deve suonare libero il telefono, prima che io intraprenda un piano B. Tipicamente il valore è 20 secondi, 20-30 secondi. Non ha senso andare a mettere lì 120 secondi equivale a dire che il piano B non verrà mai preso in esame perché oggi come oggi con l'abitudine che diamo noi al telefono nessuno sta al telefono due minuti a sentire un interno che squilla a vuoto. Quindi in generale il valore è fra i 20 e i 30 secondi ed è quanto a vuoto suonerà un interno quando viene chiamato. Passato questo ring time out, cosa gli faccio fare alla chiamata? La mando alla casella vocale dello stesso interno? Io sento gli squilli a vuoto, poi sento la voce, dice siete in linea con la casella vocale di Marcello Levi, mi spiace ma non suona nel momento il mio ufficio, ho lasciato un messaggio e sarete richiamati. Piuttosto che dopo N secondi viene rigirato a il mio stesso cellulare. Io non rispondo perché sono uscito dall'ufficio ma io mi sono preso dietro il mio cellulare e mi suona il cellulare, inteso proprio il GSM. Se no potrei avere, come molti fanno, un secondo interno sull'app del cellulare e rigirarmi la chiamata su questo secondo interno. L'effetto quale sarebbe? Che magari non compare neanche nella rubrica. Quindi gli utenti cosa fanno? Chiamano sempre il mio interno, Marcello Levi suona l'interno 204 e suona lui che è il mio telefono sulla scrivania. L'interno 204 ha mappato che se lui non risponde entro tot secondi, quando è disponibile, gira le chiamate sull'interno 205. Poi se l'interno 205, che sarò cellulare Marcello, app Marcello, è a sua volta in verde, io riceverò le chiamate. Avete capito? In questo modo creo una sequenzialità. Perché se anche l'app invece fosse sul 204, suonerebbero in parallelo se l'app è accesa e registrata. Ok? Con iOS è sempre accesa e registrata, per esempio. Posso terminare la chiamata. Dopo 90 secondi, di cui lo ha vuoto, quel numero metti giù. Ok? Posso scegliere comportamenti diversi a seconda che il chiamante sia una chiamata che arriva dall'esterno o una chiamata che arriva dall'interno. e il mio collega metto giù all'esterno, mando la voicemail, per esempio. Ok? Ho diverse altre opzioni, tipo il fai suonare il mio cellulare contemporaneamente, e qui quando si intende Mind Mobile si intende il cellulare stesso. Mettiamo che c'è il custode di notte, o il servizio 24-7 notturno, del mio tecnico, che ha l'app sul suo telefonino, ma io voglio garantire che ovunque lui sia, voglio dare la massima sicurezza del fatto che quando viene chiamato gli suoi, deve essere avere la reperibilità, e questo ce l'ho con il cellulare. Allora io posso forzare in modo che suoni contemporaneamente l'app e il cellulare stesso nello stesso momento, e in questo caso però sarà una chiamata esterna che farà il mio centralino verso il mio cellulare. Se, non credo che, quando sarà possibile avere tempi diversi tra chiamate interne ed esterne, sinceramente non lo so, perché è la prima volta che sento fare questa richiesta, se forse è stata fatta altre volte, in ogni caso non sono al corrente di questo tipo di funzionalità. Se è già stata discussa sul forum, non lo so, però non credo che sia in previsione. se io ho la funzionalità Ring My Mobile Simultaneously, in quel senso, o il cosiddetto RMS, in italiano fai suonare il mio cellulare contemporaneamente, in quel caso si intende il numero cellulare, e il centralino farà alla ricezione di una chiamata in ingresso verso questo interno, un parallelo, una chiamata in uscita verso il numero cellulare. Ok? Diverso è un discorso se sul mio cellulare ho l'app 3CX, in questo caso non devo attivare questo flag, e se l'app è stata con iOS ed è configurata, suonerà sempre, perché iOS con Android ho aperto il mio app, l'ho configurato, e sono uscito in modalità in cui accetto i segnali push, suonerà in parallelo anche l'app 3CX. Quando voi vedete su 3CX parlare di cellulare o mobile, si intende il numero di cellulare GSM esterno al centralino, quindi un inoltro su cellulare per me è un inoltro, cioè una chiamata in uscita dal centralino verso il numero territoriale della SIM, ok? Perché altrimenti è un inoltro all'interno e se l'interno ha l'app installata e configurata suona. Ok? Ok? Bene, direi di avere chiarito perché dopo vedo i segnali che non vedo. Differenza tra iOS e Android. Allora, iOS è più invasivo. Una volta che io ho un interno, ho configurato un'app 3CX con iOS per il mio interno, lui riceverà sempre le chiamate e quindi se qualcuno chiama il mio interno e il mio interno in quel momento è previsto che risponda, suona il mio iOS anche se sono in ferie, per esempio. Ok? Cioè, non ho modo di spegnere l'app, mettiamola così, non ho modo di ignorare i segnali di push. Ok? Quindi se ho l'app registrata, io ricevo chiamate anche quando in teoria sono in vacanza, se non ho messo lo stato del mio interno in una condizione da non ricevere chiamate. Android è più semplice, ha uno stato in più, mi consente di chiudere l'app ignorando segnalazioni push. Quindi posso anche essere teoricamente verde e disponibile sull'interno del centralino e se viene chiamato il mio interno e ho un telefono quello suona ma non suona in parallelo il mio Android. Io sono in ufficio ho sia l'Android sia il telefono da scrivania mappato sul mio interno destinatario di tutte le mie chiamate se ho registrato l'app Android e l'ho semplicemente lasciata stare lì o semplicemente ho chiuso lo schermo quando mi arrivano le telefonate suonano tutte e due anche se sono in ufficio mi suonano tutte e due posso con Android dire esci dall'app ignorando segnali push in questo modo io ho il telefono acceso sulla mia scrivania arriva una chiamata al mio interno suona solo il telefono nel momento in cui vado fuori ufficio accendo l'app ok con iOS questo non è possibile con iOS se io ho un'app registrata sul mio interno lo riceve e lui suona quindi se io ho il mio iPhone sulla scrivania lui suona sempre poi rispondo dalla cornetta e smette di suonare ma lui suona l'unico modo per eliminare questo è un trick mi faccio fare un secondo interno in cui non è attivo il push e io quando non voglio ricevere chiamate sul mio iOS apro l'app mi metto sul secondo interno e sono a posto in questo modo non riceverò chiamate sull'interno del telefono è già così mi risulta l'auto start dell'app con Android se sono uscito senza chiudere il push dovrebbe essere già così perlomeno mi risulta essere già così se sono uscito dall'app senza avere fatto l'esclusione del push dovrebbe al ricevimento della mia telefonata quando riaccendo il telefono di nuovo ricevere perché mi riapre di tutte le app che erano sotto ok però poi dopo rischio di non ricevere le telefonate ok va bene se poi non lo faccio anche disattivando le notifiche ottengo lo stesso risultato però poi rischio di sbagliarmi pensare di essere reperibile non esserlo quindi ci possono essere stati in ogni caso mentre su Android è proprio una funzionalità dell'app esci ignorando il push ed è quindi molto più intuitivo e se ho fatto così dopo non ricevo le chiamate anche al riavvio se invece non ho fatto così e spengo il telefono lo riaccendo domattina ricevo le telefonate ok purtroppo è praticamente impossibile per noi testare tutte le varianti di tutti i sistemi operativi di tutti i vendor e in particolare mi riferisco al mondo Android e quindi ci possono essere modelli versioni telefonini sfortunati rispetto ad altri devo dire che ad esempio qui in mio ufficio siamo in 5 abbiamo 5 telefoni diversi funzionano tutti mi sono stati riportati problemi con Huawei mi sono stati riportati problemi con alcune modelli di Samsung ma in generale devo dire che soprattutto rispetto a quello che è stato fatto tempo fa ci sono stati fatti passi da gigante un'altra cosa questa è una tecnologia che è in sviluppo rapidissimo ed è ogni nuova versione dell'app e le versioni dell'app non sono allineate ai service pack del centrale non escono più rapidamente ha migliorie nella funzionalità push perché il mondo del push si sta stratificando in modo diverso e si stanno consentendo scenari che fino a un anno fa ad esempio non erano possibili quindi perché si arrivi ad avere sull'app la stessa responsività e la stessa fidabilità del GSM c'è ancora da fare però in molte realtà devo dire che sono stati applicati vanno tranquillamente e ci sono dei clienti che hanno dismesso la rete DECT ok quindi verificate dice il vostro collega verificate sempre di non avere ottimizzazione della batteria e di avere le notificabilità queste le prime cose ok non posso dire questo perché magari la versione del modello di Android del tal tele della A5 oggi è stato testato esce l'aggiornamento domani di Samsung di cui a noi non ci ha detto nulla e non va più quindi trovate documentazione sul nostro sito però noi non possiamo garantire che il tal telefono Android possa funzionare anche perché può dipendere da ciò che l'utente fa su quel modello ok quindi purtroppo non c'è una lista ufficiale garantita perché non è che se Samsung aggiorna il firmware questo è un A5 un medio gamma normale funziona perfettamente ma domani magari faccio l'aggiornamento del firmware di Android non so se lo fanno ancora per questo e mi si blocca tutto è un tasto delicato lo capisco ma da iOS sotto questo punto di vista sicuramente ha dei vantaggi bene andiamo avanti se no ci perdiamo un po' troppo al contrario stati di in cioè non disponibilità sono tre uscito do not disturb e la replica do not disturb nel quale decido cosa fare alle chiamate dato che io non devo ricevere le chiamate quando sono in questo stato e decido cosa fare alle relative chiamate quindi voicemail le mando da una parte faccio un inoltro a un'altra numerazione esterna un altro interno eccetera posso scegliere l'estradamento in modo opportuno a seconda che sia chiamata interna o chiamata esterna se vi ricordate quando abbiamo parlato della voicemail io vi avevo spiegato che la voicemail era multiprofilo cioè io posso andare a rispondere in modo o impostare un messaggio della mia voicemail diverso a seconda del profilo in cui mi trovo va da sé che se io ho l'inoltro alla mia voicemail dopo 20 secondi di mancata risposta perché in quel momento ho attraversato l'ufficio per andare a fare una fotocopia però un minuto sarò nuovamente qui allora avrò un messaggio che dice mi dispiace non sono in questo momento al telefono alla mia scrivania ma riprovate entro pochi minuti e sarò senz'altro presente è un conto se invece sono in pausa a pranzo e mi sono messo in stato di away potrei mettere un messaggio che dice scusate ma non sarò disponibile per i prossimi 30 minuti se è un'urgenza rivolgetevi a ATA fate questa cosa altrimenti lasciate un messaggio ma vi richiamerò appena sarò nuovamente disponibile terzo caso do not disturb se mi dispiace non sono in ufficio in questo momento i miei orari di lavoro sono da questa a quest'ora per emergenza e contattate questa cosa quindi messaggi diversi in funzione del fatto che il mio interno sia in condizioni diverse i messaggi possono essere registrati direttamente dal telefono stesso oppure precaricati se infatti nel formato standard degli audio 3CX WAV PCM 8kHz 16bit ok un strumento col quale ad esempio si possono bloccare le chiamate da determinati chiamanti eccetera o comunque spesso utilizzato ne parleremo fra poco nel discorso fasce orarie sono le eccezioni le eccezioni massimo 15 eccezioni per interno consentono di avere una gestione delle chiamate diversa per specifici caller ID cioè io voglio sapere io voglio che tutte le chiamate che arrivano a questo interno vengano gestite in un certo modo tranne che le chiamate che hanno provenienti da questa numerazione o questo insieme di numerazioni vi faccio un esempio io ho due impiegati commerciali uno parla inglese e l'altro no ok io posso fare in modo che se arriva una chiamata al mio impiegato commerciale che non parla inglese proveniente da un caller ID che inizia con 0044 il fisso dell'Inghilterra quella chiamata non suoni non va da lui ma venga direttamente dirottata al collega poliglotta ok per evitare che uno prenda una chiamata scusi scusi sorry sorry metti un'attesa marcello per piacere rispondi tu perché c'è uno che parla qualcosa non capisco tiro in oltre pessima figura al contrario uno prende su dice hi I may speak with eccetera eccetera ok quindi assolutamente è tutto un altro impatto piuttosto che un cliente che ha avuto a che fare in maniera sgradevole o sgradita con un determinato impiegato in azienda e si è deciso che loro due non si devono più parlare si farà una regola per cui quando il chiamante rivolto a quell'azienda all'interno è il caller ID di quel cliente quella chiamata viene deviata su un altro in questo modo si eviterà che uno risponda e ci si trovi a che fare con qualcuno col quale non si vuole parlare ne parleremo di questa dell'uso delle eccezioni perché è un trick assolutamente utilizzato per gestire e segmentare le fasce orarie cosa significa? è proprio grazie all'uso delle eccezioni che è possibile fare in modo vi faccio l'esempio di cui parlerò anche più tardi fra poco centralino aperto dalle 9 alle 18 in cui la receptionist il ruolo di receptionist è fatto da due impiegate una che mi fa dalle 9 alle 13 e l'altra che mi fa dalle 13 alle 18 con due due part time benissimo sono due utenti diversi due interni diversi e io voglio e io voglio che nello stesso fascia oraria di apertura il centralino abbia due comportamenti diversi dalle 9 alle 13 un modo alle 13 alle 18 nell'altro io cosa posso fare? quando creo una regola di ingresso io vedo che per l'orario di ufficio ho un unico destinatario quindi se faccio che dirigo le chiamate sulla mia serietaria delle 9 alle 13 e 5 l'orario è ancora aperto ma voglio che risponda a quell'altra cosa si fa? si fa suonare a vuoto lei che si deve mettere in uno disturbo e fare un inoltre posso avere diverse possibilità ma la cosa più semplice è creare un interno fittizio vi ricordate il discorso che io ho fatto al corso base gli interni con 3x vanno via come il pane quindi a maggior ragione scegliete un numero di cifre degli interni tale per cui da avere ampia disponibilità di interni ok bene creo un interno fittizio che io chiamo filtro part time le chiamate le manderò al mio interno filtro part time ok il mio interno filtro part time che non andrò a registrare su nessun telefono ha una sua regola eccezioni in cui mi dice che caller ID cosa ci metto? asterisco che è la wild card del mio centralino vuol dire qualunque sia il caller ID asterisco asterisco per ogni eccezione mi puoi dare un orario quindi inizierò con asterisco 9.13 ho una tabella oraria esattamente identica al mio orario del centralino con la tabella della mia settimana come se fosse un orario del centralino e quindi vado a dire che dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 chiamate in ingresso con un asterisco le mandi a segretaria 1 subito sotto nuova eccezione caller ID asterisco lunedì e venerdì 13.01 18 me le mandi a segretaria 2 inserendo in mezzo quindi questo interno fittizio posso segmentare e potendo fare poi cascate di interni fittizi posso arrivare a creare 15 alla n combinazioni quindi posso arrivare a segmentare i miei orari assolutamente come voglio e posso quindi filtrare le chiamate grazie a questo trick che è un trick che possiamo dire ufficiale perché di fatto è utilizzato da tantissimi nostri centralisti esiste anche il modulo CFD col flow designer documentato eccetera ma è una cosa molto più se vogliamo strutturata ma più complessa da implementare per il modo più semplice per fare una segmentazione dell'orario d'ufficio quando un utente ha questa esigenza è l'interposizione di un interno fittizio e sfruttarne le eccezioni se si tratta di eccezioni si ragiona in millisecondi ok quindi non è assolutamente non è assolutamente percepibile l'accudente ok voi poi considerate che nel VoIP lo stesso tono di squillo è fittizio cioè quando io nel VoIP chiamo e sento uno squillo non c'è un telefono di là che squilla è il mio centralino che mentre sta gestendo la chiamata invia un tono di squillo sulla linea e intanto gestisce la chiamata se anche ci mette 20 centesimi di secondi in più che vi assicuro è molto o stiamo parlando di centralini efficienti reti efficienti cose di questo genere ma in generale dai nostri log Yshar quando il centralino è libero di CPU e di RAM e tutto nei canoni si vedono le regole seguite a livelli di 1000 secondi ok se doveste avere dei centralini che occupano secondi a smistare normalmente le chiamate diamoci un pochino su alla CPU e alla RAM funzionano a monte dello stato di dello stato di disponibilità ok quindi non viene preso in considerazione lo stato di disponibilità viene valutato a monte tant'è vero che il tab eccezioni lo trovi la parte eccezioni lo trovi in fondo ed è in comune con tutti gli stati di disponibilità ok certamente cioè io metterò un interno fittizio a monte della coda che girerà le chiamate sulla base di quelle che possono essere le code come si vuole ok quindi la chiamata finisce nella coda uno da un'ora a un'altra andrà diretta a una coda uno dall'altra da un'ora all'altra finirà diretta alla coda due se ho capito bene quindi assolutamente sì io creerò un interno fittizio orario coda che sotto insieme dell'orario d'ufficio mi manderà la chiamata nel suo orario giusto alla coda se la chiamata mi arriva in quell'orario in cui il centralino è aperto ma la coda è già chiusa verrà mandata a una voicemail in cui vado a registrare un messaggio che dice mi dispiace ma il servizio di supporto tecnico al momento non è raggiungibile lasciate un messaggio e sarete richiamati piuttosto che viene rimbalzata all'interno della reception per gestire in un altro modo quindi assolutamente sì serve gli interni fittizi per filtrare le chiamate servono proprio a questo tipo di esigenze è possibile attivare sui centralini una commutazione automatica cioè posso fare in modo che non debba essere l'interno usando gli n modi che abbiamo visto prima a cambiare lui da uno stato all'altro il suo profilo ma lo faccia al centralino stesso sulla base di quello che è l'orario generale del centralino o l'orario specifico dell'interno perché ho due diverse possibilità cosa succede quindi gli stati gestiti nella commutazione automatica sono tre lo stato di disponibile e di uscito di do not disturb non sono gestiti gli stati personalizzabili e qualora l'utente si metta in uno di questi stati non c'è automatismo caso classico il do not disturb 2 è sono in ferie ok quindi io nel momento in cui sono in commutazione automatica normalmente però vado in ferie due settimane io sul mio status do not disturb 2 carico il messaggio sono in ferie e non disponibile fino al 20 di agosto per qualunque non lasciate non potrete non sarò quindi disposto a ricevere messaggi fino a quella data per qualunque esigenza fate riferimento al mio collega Mario piuttosto che al servizio commerciale ok e sarò io il 20 di agosto quando torno in ufficio manualmente a rimettermi in stato di disponibile dal momento in quale lo farò torno in ufficio saluto tutti belle feste belle vacanze come sei abbronzato tutto bene mi siedo alla mia scrivania mi metto in stato di disponibile e da quel momento lì il sistema tornerà a gestire l'automatismo ok qui vedete ammetto che io stesso ho dovuto studiarla un po' questa slide ma diciamo che la chiamata entra per un interno a seconda dei 5 stati di disponibilità disponibile uscito due o uscito due queste due non hanno se sono in uno di questi stati non ho la commutazione automatica in questo caso posso abilitarlo dopodiché ho a seconda del tipo di interno ho il tipo di stato anche che sia di disponibilità o di indisponibilità diverse possibilità di inoltre cioè se nel caso di stati di disponibilità posso avere diversi comportamenti nel caso di mancata risposta o di non occupata nell'altro caso ho diversi comportamenti fra interno ed esterno insomma vabbè studiatevela voi non è la slide che avrei fatto io per semplificare la cosa diciamo così però non dice nulla di diverso rispetto a quello che ci siamo detto attenzione perché questo è l'altro aspetto molto importante invece delle regole di inoltre su quale abbiamo ho spesso richiesto di chiarimento quindi attenzione su questo se tutto ciò che noi abbiamo detto e le regole di inoltre di cui abbiamo parlato verranno seguite esattamente e ve lo garantisco per le chiamate che sono dirette all'interno la cosa non è vera anche oggi ho dovuto affrontare in un ticket questo aspetto se il mio interno suona in quanto membro di un destinatario collettivo cioè gruppo di suoneria di quelli che abbiamo parlato prima o di abbiamo accennato prima indifferentemente dei gruppi di interni o la coda di chiamata che è la nipotina intelligente del gruppo di suoneria che è il vecchio destinatario collettivo ma in generale cosa si tratta? si tratta di insiemi di interni che devono suonare chiamando un unico numero se è questo il caso se quindi è una chiamata rivolta a un destinatario collettivo gli inoltri che io ho messo nelle mie stati di disponibilità che prevedono un inoltro a un altro interno di sistema o un altro interno del centralino verranno ignorati gli unici inoltri che vengono e l'interno suonerà se accetta le chiamate del gruppo ed è loggato nella coda ne parleremo meglio nel corso avanzato ricordatevi comunque che quello che voglio dirvi è che le regole di inoltro che vengono seguite nel caso di chiamata diretta all'interno non vengono seguite alla lettera nel caso di chiamate rivolte a destinatari collettivi ne parleremo più approfonditamente nel corso avanzato ma l'unico inoltro che viene comunque seguito è verso cellulare inteso cellulare gsm ok o verso numeri esterni e cellulari ok questi sono gli unici casi di inoltro che vengono seguiti e se c'è il ring mobile simultaneamente viene fatto suonare il cellulare dell'interno ok confermo il telefono con fascia all'area inserita chiamata diretta inoltre coda chiamata a cui appartiene squilla ok dovrò fare in modo che quell'interno si metta in uno stato di di un disturbo pure faccia log out dalle code se l'interno fa log out dalle code non squillerà più ok e log out dalle code se ne parla nel modo nel nel modulo del corso opportuno ok quindi 5 stati di disponibilità mi ci sposto con codice con codice stiera asterisco 30 asterisco 34 da icono del client del web client da console di gestione dalla voicemail e per ciascuno di questi due di disponibilità tre di indisponibilità imposterò il mio comportamento come voglio e gli spostamenti da un profilo all'altro avranno degli effetti su quello che è il risultato finale e il cosiddetto call flow della mia telefonata ok solito a causa di due minuti d'orologio vado a avere un bicchier d'acqua e ci rivediamo parlando di fasce orarie che è un altro dei moduli più importanti del corso e del quale per il quale sarà importante avere la la vostra attenzione ok due minuti nel frattempo se volete scrivere domande a ritorno vi darò di dargli risposte a Grazie a tutti. 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 Per il resto direi di avere risposto a tutto. Grazie a tutti. Se chiamo quell'interno, quell'interno filtrerà le sue eccezioni, indipendentemente dal fatto che sia in due disturbo disponibile, eccetera. Quindi se quell'interno non deve essere ricevuto e deve essere gestito in un altro modo, seguirà l'eccezione indipendentemente dallo stato di disponibilità. Ok? Quindi, no. fasce orarie. Qui, contrariamente a tutti i buoni consigli per quanto riguarda le negoziazioni tecniche di vendita, tecniche, eccetera, io apro, diciamo, con un'ammissione di colpa. Dicono di non aprire mai sulla difensiva, ma io lo dico senza problemi. Nei tanti corsi frontali che ho fatto, anche con alcuni di voi, perché riconosco diversi nomi conosciuti, quando si parla di questo argomento, tante volte si sono alzate delle manine e il partner, dall'altra parte, ha detto, ma io che vengo dal mondo Asterisk, ho trovato che è complicato la gestione degli orari su 3CX e con Asterisk faccio tutto in modo molto intuitivo, con 3CX certe cose non si possono fare. Allora, io qui mi sento di fare mea culpa da una parte, ma di contestare l'assunto finale, nel senso che sono disposto ad ammettere che con altri centralini la gestione dei flussi orari, delle fasce orarie, possa essere più intuitiva, contesto però che anche grazie proprio al trucco che abbiamo appena visto dell'interposizione di un interno fictizio, non sia possibile fare con 3CX quello che si può fare con gli altri centralini. Questo non è vero, con 3CX si può gestire il comportamento e segmentare la giornata come si vuole, analogamente a quello che viene fatto dagli altri centralini, magari appunto con un trick come quello che abbiamo visto, ma il risultato finale, lato utente, sarà lo stesso. Io chiamo e a seconda dell'orario in cui chiamo, la mia come chiamata sarà gestita nel modo che voglio. Ok? Quindi può darsi che altri sistemi l'avessero in modo più efficiente o ce l'abbiano in modo più efficiente, sicuramente però il risultato finale si ottiene identico anche con 3CX. Ok? Questo è quello che vorrei fosse il vostro, una vostra certezza al termine di questo corso. Parliamo adesso di com'è il default del centralino, cioè senza trick. Il centralino ha un suo orario d'ufficio ed è un orario di sistema, è globale per l'intero centralino. Questo si riallaccia anche al discorso che abbiamo fatto ieri, che non mi ricordo se era uno, mi auguro di sì, forse sia presente anche oggi, che mi chiedeva un consiglio se per una sede italiana è una sede a New York. Proprio per questo, visto che comunque anche la sede americana era una sede già un po' grande, io dicevo forse però è meglio mettere un secondo centralino in ponte, perché in questo modo avrò due centralini autonomi e uno con l'orario di New York, l'altro con l'orario italiano, uno con le festività di uno e l'altro con le festività dell'altro. Ok? Perché comunque l'orario d'ufficio è globale. Poi dopo posso gestire comunque sedi diverse, orari diversi, eccetera, adesso lo vediamo, però sappiate sempre che questa è una impostazione globale del sistema. Ho tre stati in orario d'ufficio e fuori orario d'ufficio, già a livello di orario d'ufficio all'orario di break, che però a questo livello non viene quasi mai usato, viene di solito usato solo per gli interni, tant'è vero che poi in ogni caso se lo applico qui, è comunque utilizzato solo dagli interni, quindi di solito si fa quando vengono utilizzati orari specifici degli interni, e posso attivarlo a tre diversi livelli, a livello di centralino, a livello di regola di ingresso, e a livello di interno. Gli effetti che avrò saranno proprio su queste realtà, quindi nel momento in cui mi arriva una chiamata in ingresso, il centralino si comporterà in un certo modo, nel momento in cui verrà coinvolto, a seconda che sia in orario d'ufficio o no, nel momento in cui verrà chiamata un interno, il centralino si comporterà in un certo modo, secondo se quell'interno è a lavorare o no, sulla base del suo orario d'ufficio. Quindi ho tre diverse fasce, globali, regole d'ingresso e interno, e perché una chiamata arrivi, e quindi l'interno risponda, bisogna che tutti e tre abbiano l'orario impostato, e si imposta quello globale, a livello di regole d'ingresso c'è la possibilità di applicarle di specifiche, a livello di interni c'è la possibilità di applicarle di specifici. Se faccio tutto specifico, bisogna che sia nella fascia oraria in cui tutto passa, altrimenti faccio globale, non lascio che sia le regole d'ingresso che gli interni si adeguino al globale, e tutto funziona. Quindi ho diverse strozzature, fino ad arrivare all'orario specifico dell'interno. Come si fa l'orario? Si definisce l'orario quotidiano su base settimanale, quindi io ho dal lunedì alla domenica, e posso definire che l'ufficio, quella numerazione in ingresso, quell'interno, siano disponibili il lunedì dalle 9 alle 11, il martedì dalle 15 alle 17, il giovedì dalle 12 alle 19. Quello che non posso fare, come purtroppo mi è stato chiesto in un paio di occasioni, ma diciamo due occasioni in più di quattro anni non è tanto, è avere sì che quell'interno abbia un orario tale per cui l'ultimo venerdì del mese recupera ora. Ecco, questo non si può impostare, perché è base settimanale, e in quel caso sarà l'interno che uscirà dalla commutazione automatica mettendosi manualmente disponibile per le ore in più, e rimettendosi a Android Disturb alla fine delle ore in più che ha fatto. Dovrà ricordarsi il quarto venerdì del mese di fare un'impostazione manuale e gli si spiega come farlo. Ok? Dove vado? Vado su impostazioni, orari, ufficio e vacanze, e vedete che mi si apre una tabella che, come vi dicevo, va dall'unedì alla domenica e la possibilità di poter gestire n fasce orarie. Attenzione! Una volta che la creo, non la posso modificare, quindi se io il Saturday non voglio fare più dalle 9 alle 14, ma voglio fare dalle 9 alle 13, non modifico questa, semplicemente elimino 9 alle 14 e riscrivo 9 alle 13. Ok? Se voglio aggiungere invece dalle 14 alle 18, non c'è problema, vado sotto Configure, seconda fascia, 9 alle 14 alle 18. Ok? Posso già a questo livello impostare degli orari di break, ma in generale questo livello inseriti qui spesso generano confusione. Io vi consiglio, per come siamo di solito organizzati noi in Italia, se ci sono degli orari di break contrattualizzati e automatizzati sulla base di certi contratti o di accordi con il dipendente, andate a inserirli direttamente sul suo orario specifico. Perché? Perché l'orario specifico, il break, è qualcosa che viene applicato solo a livello di interni. Facciamo un esempio qua del lunedì. Qui in questa azienda io vedo che c'è il lunedì, orario continuato dalle 9 alle 17, ma c'è un break, chiamiamola pausa pranzo, dalle 13 alle 13.30. Nella mia regola di ingresso c'è scritto che in orario d'ufficio il centralino va in risponditore uffici aperti, dove c'è scritto che per amministrazione premere 1, per supporto tecnico premere 2. Fuori dall'orario d'ufficio c'è il risponditore che dice mi dispiace i nostri uffici sono chiusi, lasciate un messaggio o richiamate domattina. Ok? Bene. Secchiamo alle 13.10. Cosa vi aspettate che risponda? Per come la potrei pensare io stesso se non ho frequentato il chiarissimo webinar didattico di Marcello Levi, io mi sarei messo così e quindi ho che alle 13.10 è un orario di break che mi va in uffici chiusi, quindi sono a posto. In realtà no. Alle 13 di questa azienda gli interni vanno tutti in away se ho messo la commutazione automatica, ma gli uffici restano aperti perché l'orario di break non si applica sull'orario globale o sulle regole d'ingresso. Quale sarebbe nella pratica il comportamento finale? Sarebbe che la chiamata arriva alle 13.10, io sento risponditori uffici aperti perché per lui è sempre un ufficio aperto, per amministrazione premere 1, io premo 1, deve suonare l'impiegato amministrativo che invece è in away perché è andato a pranzo e si sente la casella vocale di Marcello che dice mi spiace non sono a momento disponibile richiamate fra 20 minuti e quindi è brutto perché do l'impressione non è quello che volevo sostanzialmente. Cosa dovrei fare se io voglio dare la pausa pranzo a tutti i miei dipendenti dalle 13 alle 13.30 e in quel momento che le chiamate informino che siamo a pranzo siamo chiusi e che riapriamo alle 13.30 faccio una doppia fascia oraria come ad esempio faccio qui dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 in questo caso se la chiamata arriva alle 13.10 risponde uffici chiusi avete capito? chiaro questo? quindi attenzione a usare i break times nella fascia oraria globale del centralino molto spesso da origini a problemi se invece ho un cliente un collaboratore che per contratto lui va in pausa pranzo dalle 13 alle 13.30 il suo collega dalle 13.30 alle 14 in modo tale che al gruppo suoneria amministrazione ci sia sempre uno che risponde fate orario continuato e poi andrete a mettere che uno gli va in away gli va alla break time orario specifico 13.30 l'altro 13.30 14 e ai loro interni automaticamente diventeranno giallo alle 13.01 per uno e alle 13.31 per l'altro ok? e viceversa quindi il consiglio è usare i break solo a livello di interno o di regole a livello di interno ok? orari di ufficio specifici dicevamo anche qui orario quotidiano base settimanale e può essere configurato a due ulteriori livelli a regola di ingresso o ad interno e sovrascrive l'orario di ufficio generale allora qual è un caso? vi faccio l'esempio del nostro reparto commerciale a Cipro 3CX per chi non lo sapesse è una società internazionale il cui quartier generale è a Nicosia capitale di Cipro è un'azienda internazionale il proprietario è di una nazionalità responsabile del finanziario è di un'altra non ci sono in sede ci sono circa una centinaia di dipendenti il blocco più grosso sono ovviamente greco-ciprioti ma saranno una quarantina sul centinaio ok? in particolare l'ufficio commerciale dove ci saranno a spanne 20-25 persone non ha praticamente quasi nessun greco non me ne viene in mente uno in quanto tutti lavorano persone dei paesi che rappresentano lasciamo stare chi di voi lo conosce Loris Saretta che è responsabile commerciale per l'Italia lui vive a Malta ed è un caso a sé ma il suo corrispondente francese che è una bellissima ragazza di nome Axel vive a Cipro il suo collega tedesco che è un Marcos vive a Cipro la sua collega russa che è un'altra bellissima ragazza di nome Caterina vive a Cipro e così via ok? che cosa succede nella pratica? loro lavorano in un ufficio commerciale di quelli adesso abbiamo fatto la sede nuova con gli open space con i vari box un scenario anche molto architettonicamente molto bello e si spostano con le cuffie bluetooth dalle loro scrivanie per poter chiacchierare per spostarsi anche nell'ufficio ma il collega che la collega che segue la Russia Cipro è un'ora avanti rispetto a noi lei credo che lavori sul fusore di Mosca che credo sia due ore avanti rispetto a noi se non ricordo male lei arriva in ufficio alle 8 mentre il mio collega Paul commerciale che segue l'Inghilterra che è due ore indietro rispetto agli Stati Uniti a Cipro arriva in ufficio alle 11 ma perché? perché la collega russa risponde a un trunk russo che ha orari di ufficio russi il collega Paul risponde a un trunk inglese che ha orari di ufficio inglesi cosa ci viene a fare lui alle 9 ora di Cipro in ufficio se a Londra sono le 8 e nessuno fa chiamate alle 8 ok anzi a Londra sono le 7 sono due ore ok quindi viene fatto un filtro e il trunk quindi la regola di ingresso di quel numero inglese ha degli orari diversi rispetto al trunk russo che ha a sua volta degli orari diversi rispetto al trunk francese e così si arrivava al paradosso che adesso no perché è stata aperta la sede di Tampa dove c'è già un team di una dozzina di persone e adesso quindi l'America ha una sua sede autonoma ma fino a un paio di anni fa i due colleghi che gestivano l'America arrivavano in ufficio all'una cipriota alle 2 del pomeriggio e stavano in ufficio fino alle 11 di sera mezzanotte perché coprivano l'orario dell'Ace Coast capite? come dicevo quindi si possono creare tutta una serie di insiemi per arrivare a gestire del trick della gestione degli orari fasce orarie e segmentazione di fasce orarie ne abbiamo già parlato ma lo ripeto come dicevamo sia che si tratti di regole di ingresso che di orari ufficio io ho due possibili stradamenti quindi mi viene detto bene se l'orario questa chiamata dove deve andare se gli uffici sono aperti da una parte se gli uffici sono chiusi da un'altra ma se in entrambi i casi per uffici chiusi o per uffici aperti io dovessi avere dei comportamenti variabili all'interno di quella che è la fascia oraria generale uffici aperti o uffici chiusi due portieri di notte o due tecnici che gestiscono uno fa il turno notturno dalle 8 alle 2 e l'altro dalle 2 alle 8 di mattino per dire con un fasci chiusi ma con comunque una possibilità di avere un servizio di reperibilità smizzato su due turni quindi il discorso che ha fatto fasce orarie smistamento vale anche per le fasce orarie chiuso come farò indirizzerò le chiamate nel caso di uffici chiusi a un interno fittizio che sulla base del suo orario specifico mi filtrerà le chiamate verso n direzioni ogni singolo interno fittizio può scegliere 15 fasce orarie diverse uno di queste può essere un secondo interno fittizio 15 alla 15 ma capite che posso segmentare la mia giornata a livello di specifico minuto adesso sto ovviamente esagerando ok quindi in ogni caso non ci sono problemi a segmentare la giornata in quello che è una ragionevole piano di lavoro di un'azienda ok vacanze altro grande argomento di 3CX chi di voi avesse fatto esperienze con i vecchi centralini ogni volta che io facevo i corsi alzava la mano e si lamentava e devo dire aveva ragione perché voi dovete sapere che fino alla versione alla prima versione 15 quindi due anni qualcosa fa i giorni di vacanza si potevano venire inseriti solo come giorno quindi il 2 di agosto era il giorno 2 di agosto chiusura estiva stavo chiuso dal 2 al 18 di agosto mi creavo n regole di chiusura dal 2 al 18 di agosto ok quando io in persona mi spiegarono questa cosa eravamo in una sala di riunioni dove c'erano io e altre persone che stavamo così anche imparando a usare il centralino internamente io ho alzato il ditino e ho detto scusate ma non si può fare un periodo dal 2 al 18 sì tecnicamente si può fare però dai insomma ho imparato a fare la regola tanto quanto chiude l'azienda chiude una settimana sono 5 regole perché poi c'è sabato e domenica ci si mette 5 minuti non è certo un problema neanche meno di 5 minuti ok io ho sempre continuato veramente in Italia noi chiudiamo anche 2 3 certe aziende 4 settimane in agosto seminai il panico quasi cascarono dalla sedia non si capacitavano che ci fossero aziende che stavano sul mercato che potessero chiudere per 3 o 4 settimane ma alla fine anche il responsabile spagnolo in un'altra riunione ha alzato il ditino anche il responsabile greco ha alzato il ditino e a forza di ditine alzate è stato inserito il periodo quindi oggi posso dire che viene impostata una vacanza dal 2 al 18 di agosto in un'unica regola ok questa vacanza può essere su base annua cioè dal 2 al 18 di agosto del 2018 piuttosto che ricorsiva ad esempio il 25 aprile Eni cioè perché il 25 aprile è comunque sempre festa è festa nazionale ok un consiglio se voi avete una realtà e com'è di solito com'è di solito il periodo natalizio il periodo estivo stabilisce le chiusure il periodo della chiusura anno per anno sulla base del calendario quest'anno stiamo chiusi dal 4 al 18 di agosto l'anno prossimo sarà dal 6 al 20 fra due anni magari sarà 3 settimane o dall'1 al 17 per esempio in cui comunque il 15 di agosto ferragosto è sempre incluso perché è quella settimana lì da una parte dall'altra è il periodo di vacanze fatto in modo da tenerci dentro ferragosto non andate a inserire fin dall'inizio 15 di agosto Eni come festa ricorsiva lo stesso discorso vale per il primo di gennaio se l'azienda chiude sempre la settimana di capodanno in modo tale che non si riapre mai prima del 3 o del 2 non ci mettete l'1 come festività perché perché se no perché il consiglio che io di solito do è benissimo al momento in cui voi aprite un nuovo cliente andate su vacanze e cominciate e inserite tutti i giorni di vacanza comandata primo gennaio 6 gennaio 25 aprile primo maggio 2 giugno 15 agosto 25 26 dicembre 2 novembre quindi il calendario delle vacanze se però allora se per tutti i giorni 25 aprile 2 di novembre eccetera normalmente non ci sono problemi se voi già sapete che 25 26 e 1 gennaio 15 di agosto saranno sempre chiuse in periodi di vacanza periodi evitate di metterli perché nel momento in cui bene per quest'anno quando chiudete quest'estate quest'estate sulla base del calendario chiudiamo dal 3 al 17 bene errore perché perché c'è già una giornata state includendo date già comprese in calendario ogni data può essere in un'unica regola di vacanza non potete sostanzialmente avere il 15 di agosto come festività ricorsiva e un periodo che preveda quella data vi da errore come mai provate finché capite che dovete eliminare quindi il consiglio che vi do è create fin dall'inizio le regole ricorsive per tutte quelle festività che parlando con il cliente sapete non rientrare all'interno di soliti periodi di chiusura ok anche perché quando la chiamata è ricevuta in quei giorni il centralino va direttamente in vacanza quindi non è che raggiunge l'interno cioè è a monte nel momento in cui il centralino riceve una chiamata in cui è in vacanza segue un istradamento diverso ok non è che io posso inserire la vacanza a livello di interno quell'interno in vacanza no è il centralino che è chiuso ok quindi come si fa vado su impostazioni orario di ufficio e vacanze aggiungo imposto periodo di vacanza ricorsivo ogni anno o l'anno specifico carico il messaggio di produzione quindi posso avere che per Natale ho Jingle Bass di sfondo e io che faccio gli auguri di buone vacanze ci si rivede il 7 di gennaio piuttosto che la chiusura per il 25 aprile l'inno di taglio in sottofondo e che dico oggi è la testa nazionale ci si sente domani ok posso avere quindi messaggi diversi per ciascuna vacanza se però questo se lo ripetiamo fra un attimo non ho caricato un messaggio specifico vedremo fra un attimo chi si fa carico di rispondere comunque viene riprodotto un messaggio ok caso classico ho un utente che viene da me fa il corso all'inizio prova centralino va a casa il 4 di agosto mi chiama dicendo Marcello ho trovato un bug sto inserendo le vacanze per la chiusura estiva ma il centralino non le prende allora apro una piccola parentesi vi sembra possibile che voi al primo tentativo trovate un bug così clamoroso su una funzionalità così importante come quella di 3CX è molto difficile è molto più probabile che voi non abbiate non abbiate impostato il il flag specifico che riproduci messaggio vacanza se vacanza in calendario ok nella regola di ingresso c'è alla base due ci sono due flag molto importanti uno che mi dice che è la possibilità di impostare orari di ufficio specifici per questo tranche quindi poter dare fare sì che l'orario il tranche russo abbia un orario diverso rispetto al tranche del centralino e fare sì che il tranche russo non riproduca le vacanze cipriote a Cipro tralasciando che hanno un sacco di feste religiose ortodosse molto di più di quelle che abbiamo in Italia quindi hanno la Pentecoste la Pasqua ortodosse hanno molte più feste di noi ma a parte questo dettaglio e posso decidere se quel tranche deve seguire o no il calendario c'è un flag specifico che riproduce i prompt se vacanza in calendario e se nella regola di ingresso relativa alla numerazione che io sto chiamando quel flag non è abilitato il anche se è una giornata impostata come giornata di vacanza la vacanza non verrà riprodotta la vacanza non suonerà ok quindi mi raccomando la trovate questi due flag alla base delle regole di ingresso sia a livello della numerazione principale del SIP Trunk andando su SIP Trunk e cliccando su l'unico di configurato sia sulle specifiche regole di ingresso create per tutte le numerazioni aggiuntive alla numerazione principale del SIP Trunk trovate in fondo l'impostazione di orari specifici e la riproduzione o meno delle vacanze in calendario ok se viene ricevuta una chiamata e l'orario è previsto per questo Trunk ed è previsto che vengano riprodotte le vacanze in calendario chi è che mi gestisce la chiamata? mi gestisce la chiamata un risponditore digitale un IVR definito hall dall'inglese holiday se voi avete già provato a attivare un centrinio tra CX e siete andati alla pagina risponditore digitale o IVR troverete che questo è già presente anche se voi non l'avete creato mentre gli interni sono c'è solo l'interno creato in fase di installazione i gruppi sono vuoti le regole sono vuote eccetera nei risponditori digitali c'è già hall e non è eliminabile tra l'altro non c'è la crocetta al termine che cosa fa questo hall? questo hall è l'oggetto logico interno del mio centralino che di fatto dopo torno indietro chiedo scusa perché hanno cambiato le slide di questo modulo e l'ordine non è più quello al quale ero abituato che di fatto gestirà la chiamata ricevuta in un giorno di vacanza se questo se lo voi lo andate ad aprire è un IVR come tutti gli altri in cui c'è un messaggio di benvenuto e il suo menu di opzioni da 0 a 9 ecco se nel momento in cui ho creato la mia vacanza ho caricato un messaggio specifico per quella vacanza viene riprodotto il messaggio specifico se non è stato caricato cosa che posso fare un messaggio specifico verrà riprodotto quello che è il messaggio caricato nel risponditore hall ok in ogni caso sia che sia riprodotto il messaggio specifico o che sia riprodotto il messaggio caricato nel risponditore caricato di default nel risponditore le opzioni sono sempre valide da 0 a 9 caso che mi viene richiesto io guarda è vacanza però l'avvocato lui è abituato che i suoi 3-4 clienti principali che sono anche persone con le quali lui ha un rapporto personale sanno che dato che lui è un workaholic è uno per cui non c'è sabato domenica sanno che quando lui molto spesso la domenica è in ufficio e lui ha la moglie e ha i 3-4 clienti i suoi principali vuole essere reperibile sul suo interno anche se va in vacanza anche se ufficialmente è il 15 d'agosto come fare? benissimo allora voi andate a mettere ad esempio all'opzione 7 del risponditore l'inoltro ha l'interno dell'avvocato nel messaggio vacanze lo studio bianchi rossi verdi è chiuso e riapre il 20 di agosto se volete lasciare un messaggio premete 1 e sarete richiamati e sarete richiamati alla riapertura degli uffici grazie e buone vacanze io cosa faccio? io se ho bisogno di fare un messaggio premo 1 altrimenti metto giù e mi segno che il 20 di agosto devo richiamare ma se nel risponditore c'è impostato non lo dico nel messaggio ma nell'impostazione del risponditore c'è che al tasto 7 c'è inoltre all'interno dell'avvocato e io sono il suo cliente principale e sono stato informato di digitare 7 io sento il messaggio che dice siamo chiusi premere 1 per lasciare un messaggio altrimenti buone vacanze io spingo 7 ma vediamo se effettivamente oggi è andato in ufficio perché mi aveva promesso che avrebbe esaminato la pratica in questi giorni spingo 7 e di fatto per il risponditore è una selezione valida e me la inoltre all'interno dell'avvocato che se è in ufficio prende il suo e dice ah vedi che sono in ufficio sto lavorando anche per te anche se è per agosto perché quando si riaprirà il tribunale sarò pronto con l'istanza avete capito? piuttosto che manda un interno fittizio nel quale viene fatto un filtro sulla base del caller ID e ho insegnato che la regola il caller ID ci metto il numero della moglie dell'amante e dell'amico di golf e se sono quelli lì me li passa all'interno se invece non sono neanche quelli lì mi rimanda al risponditore iniziale che dice no mi dispiace i nostri uffici sono chiusi avete capito? quindi posso ulteriormente filtrare il punto è che se voi volete creare delle possibilità tale per cui anche nei giorni di vacanza alcune o parti del mio centralino devono essere reperibili li fate andando a impostare le opzioni direttamente nel risponditore hall e quindi giocando su ciò che dite e ciò che fate riuscite a rendere il centralino accessibile a tutto o parte come volete anche nei giorni di vacanza ok? bene commutazione automatica questo vale per l'interno ed è un flag che io vado a mettere nelle impostazioni generali del mio interno nel suo stato di disponibile quando vado su interno regole di inoltro stato disponibile scendo giù commutazione automatica se io attivo la commutazione automatica se ho lasciato se non vado a configurare gli orari specifici lui si baserà sugli orari generali del centralino altrimenti posso andare a impostare orari specifici gli orari specifici possono essere impostati per aperto chiuso e break a cui corrisponde l'automatico switch in tre diversi stati di disponibilità in fascia di orari di ufficio aperti l'interno verrà messo in disponibile in fascia di break verrà messo in uscito e in fascia di fuori ufficio verrà messo in do not disturb a raggiungimento di ogni orario vedrò lo stato del mio interno cambiare di conseguenza e automaticamente inoltre delle chiamate si comporterà sulla base di quello che è stato impostato per quello specifico profilo voglio uscire voglio essere sempre reperibile voglio essere sempre non disponibile bene o disattivo la commutazione automatica a livello globale per il mio interno ok e quindi sarò io che resto nello stato in cui mi metto ok oppure in casi di particolare necessità io so che se mi vado a mettere in disponibile uno o non disponibile due ok i due stati di personalizzazione quelli ignorano la commutazione automatica quindi il mio interno è impostato con un orario d'ufficio a commutazione automatica però vado in ferie due settimane benissimo prima di andarmene faccio asterisco 34 prima di uscire dall'ufficio o io o il mio collega o l'amministratore di sistema eccetera mi mette in asterisco 34 ciò significa che la commutazione automatica è attiva ma viene ignorata perché sono in 2 not distrib 2 al contrario resto in ufficio a fare degli straordinari e voglio essere reperibile per i miei colleghi o comunque il mio interno ha una numerazione diretta al mio interno e voglio che sia e voglio poter ricevere chiamate mi metto in disponibile 1 ok e scavalco la commutazione automatica come dicevo se invece intervenendo qui vado sul tasto configura mi si apre una nuova tabella che a questo punto definisce i miei orari specifici e qui avrebbe a più senso in questo caso andare a inserire dei orari di break perché qui è il caso in cui io sono un impiegato con un contratto molto preciso che prevede che ogni 2 ore di scrivania io abbia diritto a 15 minuti di pausa ecco che allora viene fatto che io inizio di lavorare alle 8 e 30 alle 10 e 30 10 e 45 ho un quarto d'ora di pausa dalle 10 e 45 alle 12 e 45 lavoro poi n pause selezionate per il mio e in quel momento e automaticamente che io lo voglio o no il mio interno mi andrà in pausa in quella fascia oraria ok e si comporterà di conseguenza allo stato di away o di uscito che è impostato per il mio interno ricordatevi che impostare qualcosa di specifico questo vale in generale per i diritti dell'interno per l'orario per le regole eccetera quando nell'intracix vado a fare qualcosa di specifico lo specifico vince sul globale ok questo in generale la logica è sempre così quindi anche qui se io vado a fare di orari specifici quelli sovrascrivono gli orari globali ok quindi i break come abbiamo detto ecco ultima slide per oggi e poi vi saluto ricordatevi solo che il break deve essere interno a una fascia di apertura cioè io posso fare orario di apertura 9.13 un break 10.10.30 non posso fare apertura 9.13 break 13.14 apertura 14.18 non me la prende come errore ok il break deve avere inizio e fine coincidente interno interno a un orario di apertura e se io voglio iniziare con un break dovrò inserire almeno un minuto di scarto cioè faccio un esempio se vogliamo assurdo l'orario di ufficio inizia alle 9 ma io non voglio io sono in ufficio però io ho i primi quarti d'ora in cui devo finché non do un'occhiata alla mail non prendo il mio primo caffè e non mi stropiccio gli occhi non voglio ricevere le telefonate faccio che il mio interno ha un break fino alle 9.15 ecco se io faccio che l'orario di ufficio comincia alle 9 e io nel mio orario specifico di mio interno ci metto 9.15 avrò errore o metto che l'orario inizia alle 8.59 e io vado in break alle 9 oppure metto 9.901 cioè ci deve essere almeno un minuto di scarto ho un rischio che mi arrivi una chiamata proprio alle 9 30 secondi quindi diamola così ma non posso fare un orario di break coincidente con l'inizio dell'orario di apertura il break deve essere interno a una fascia oraria per cui io stesso o l'incentralino siamo aperti abbiamo finito per oggi non ho visto domande forse perché ero io che non scrivo allora scusate non mi ha scorso la chat allora un attimo solo che adesso le vedo le stagioni con cambio orario sono un problema questo mi spiace ma due volte all'anno quella azienda cambierà orari questo purtroppo è così non ho modo di non si può fare non c'è uno scheduling su base annuale lo scheduling purtroppo è come ci siamo detti base settimanale chiamate in entrata c'è una tabella settimanale impostata risponde il QR digito la voce prescelta e quindi va al gruppo di risposta però se per il gruppo uno specifico giorno non deve rispondere deve dare un messaggio dicendo questa stessa cosa si fa esattamente come abbiamo detto prima cosa succederà l'OIWR mi dice che al pulsante 5 comune di Modena per servizio caccia e pesca premere 5 e il servizio caccia e pesca risponde dal lunedì il lunedì dalle 9 alle 11 il martedì dalle 12 alle 13 e il giovedì dalle 14 alle 18 ok benissimo io faccio un mio interno fittizio orario caccia e pesca io metto che le chiamate verso il della digitazione del l'OIWR numero 5 vanno a orario caccia e pesca eccezioni orario delle eccezioni 9 lunedì martedì giovedì me lo inoltri al gruppo caccia e pesca per tutte le altre chiamate ci sarà cosa succede quando l'interno è non disponibile mi va mi viene rinoltrato a una casella vocale che dice mi dispiace il servizio caccia e pesca non è in questo momento disponibile gli orari sono ecco come quindi con l'interposizione di un interno fittizio riesco a partendo da un IWR filtrare le chiamate su base oraria ok a quello che immagino che il commento su corsi e cipro sia il fatto che i miei colleghi sono una più bella dell'altra confermo che è così e sono una più bella dell'altra non so se faccio appunteggio in fase di selezione delle personali ma vi posso garantire che sono letteralmente una più bella dell'altra tutti gli interni comprese le esclusioni singole purtroppo chiedo scusa non ho visto le domande di corse d'opera quindi non so cosa si ritrovi le ultime due settimane dell'anno la settimana a cavallo di ferragosto la andrò a impostare però anno per anno a seconda di cosa intendo per a cavallo di ferragosto se io voglio fare una regola che è dal 10 al 17 agosto lo faccio se è dal sabato prima al sabato dopo ferragosto lo dovrò fare ogni anno impostando quelle che sono le date quest'anno sono dal 10 al 17 l'anno scorso l'anno scorso l'anno dal 9 al 16 l'anno prossimo saranno dall'11 al 18 e andrò quindi ad aggiustare il periodo come come mi serve ok se volessi dare un no le ferie non le ferie sono globale ok quindi non c'è un calendario per interni il centralino ha un unico livello di ferie e quindi non è possibile fare sì che ci sia cioè sarà all'interno stesso che si mette in do not disturb quando vai in ferie e se lo toglie quando ma non è possibile avere un calendario calendario differenziati per altre aree del centralino no no certo se sono al telefono le chiamate in corso continuano senza problema come è meglio attivare un interno fittizio benissimo lo vado a creare allora io creo l'interno che voglio gli vado a dare se l'unica cosa che può l'unico trick che posso dire è di mettergli magari se voglio essere sicuro che venga sempre registrato ho due modalità allora diciamone una perché è più semplice vado a mettergli un numero di cellulare sbagliato 1,2,3,4,5,6 e vado ad attivare il fai suonare il mio cellulare contemporaneamente se questo interno fittizio ha queste due informazioni vere cioè ha un campo di cellulare attivo e ho il fai suonare il mio cellulare contemporaneamente per il centralino quell'interno sarà sempre registrato sarà sempre registrato e quindi sempre disponibile no perché le eccezioni vengono calcolate a monte ok quindi è il modo per avere un interno sempre valido per il quale utilizzare come interno fittizio su quello che è la gestione delle tabelle orarie si vedrà le eventuali evoluzioni però considerate che conoscendo questi trick si riesce già a fare tutto quello che si vuole in più c'è un sistema un software che si chiama CFD call flow designer non se ne parla neanche nel corso avanzato è già una cosa diciamo estremamente non estremamente perché comunque già abbastanza per partner evoluti è molto ben documentata sia a livello di manualistica che di esempi e attraverso il call flow designer invece ho un modo strutturale per creare e programmare in un unico call flow tutti i flussi orari che voglio c'è proprio un esempio anche dimostrato sul manuale tale per cui posso creare call flow designer in inglese sta per disegnatore di flusso di chiamate ed è un tool che mi consente con una modalità relativamente semplice con proprio un vero e proprio drag and drop di componenti di crearmi un mio schema da importare sul mio centralino richiede già una competenza un po' diversa non una semplice utilizzo di funzionalità da pagina web come la console di gestione ma in quel modo riesco a strutturare i risponditori nel modo più professionale e più strutturato possibile dipende cosa intendi li report influiscono se devo creare l'interno fittizio dipende perché di solito li faccio sul destinatario della chiamata che è quello quindi quante chiamate dipende come gestisco i report sicuramente una chiamata ripeto con l'interno fittizio l'interno non risponda alle chiamate le filtra solo quindi di fatto non ho impatto su quelle che sono le chiamate risposte in fondo o le chiamate non risposte perché mandate a una voicemail se l'interno fittizio manda una voicemail è una chiamata mandata a una voicemail punto ok alla fine è un modo per scegliere un destinatario rispetto a un altro ma poi sulla base dei report che faccio saprò quante chiamate hanno raggiunto quel destinatario particolare quante chiamate ha gestito quella coda ne ha gestite 100 ma se a monte c'era un filtro che mi deviava altre 200 chiamate da un'altra parte lei sempre ne ha gestite 100 ok quindi di fatto è un filtro non è che lui gestisce chiamate in modo separato ok bene signori io vi ringrazio non ho capito l'ultimo dunque se è una regola standard inoltre dove si crea un codice tipo 124 per alcuni clienti allora anche qui se si vuole fare in modo di gestire una gestione speciale in modo tale per cui quella che voi chi di voi è partner lo avrà già sperimentato viene chiamato il risponditore viene chiesto di digitare un codice il codice fa confronto su un database e sulla base del risultato la chiamata viene gestita in un certo modo questo è il confronto con un database esterno questo viene fatto proprio con il call flow designer di cui vi ho parlato prima ok è un modulo che si può quindi importare sul centralino e in modo tale che i clienti abilitati abbiano accesso a determinati servizi piuttosto che per esempio l'interpellazione da telefonata dello stato di pagamento di una fattura digitare codice cliente a TTT digitare numero fattura a TTT la fattura risulta correttamente pagata con voci registrate ecco tutto questo si fa con il call flow designer non ho capito la descrizione dell'SMDR in ogni caso non è argomento del corso di oggi c'è un modulo TEL e vi consiglio di approfondire quell'aspetto e il CDR specificatamente per questo perché non ho neanche inteso bene la domanda ma sicuramente non è l'argomento di oggi ok bene io vi saluto perché in effetti è già tardi e vi auguro buona buona serata con la prossima settimana cominceremo il corso avanzato che terminerà quindi il percorso che va a completare i tre livelli di argomenti e di certificazione per 3CINX il mio consiglio per chi avesse già cominciato dal corso base di seguire anche quest'ultima settimana per avere una panoramica completa di tutti quelli che sono gli argomenti di certificazione richiesti dal nostro programma vi saluto di nuovo vi ringrazio per l'attenzione spero che sia stato utile vi auguro a tutti buona serata arrivederci